ciao a tutti sono genmin aka gen43river e benvenuti ad un altro video sul pack opening del team of the week 20 continuiamo ancora con la ricerca di nemar second if di giocatori forti e costosi visto che il mercato è veramente strafatto i prezzi sono alle stelle e credo che motivi li sappiate almeno spero nei precedenti video abbiamo trovato tre giocatori in forma pizarro close e un buon giocatore come sergio ramos inoltre ci sono questi giocatori con le carte uomo partita boni azzu balboa è un difensore centrale dell'australia credo comunque ora andiamo a spacchettare ragazzi iniziamo ci sono solamente i pacchetti cioè quelli classici grida 5.000 7500 apriremo sempre quelli da 7500 meno che gli e sports far uscire qualche api non lo so altri pacchetti ora primo pacchetto ragazzi con griezmann in copertina su su saltiamo sapete ragazzi che vorrei trovare in questo momento dunbia e i barbo visto che sono dei giocatori della s roma in questo momento diego alves primo proprietario ragazzi primo proprietario primo proprietario andiamo così ragazzi e andiamo così diego alves andiamo subito a vedere quanto costa sul mercato questo porti 123 mila bene 100 sui 120 mila bene ragazzi bene 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 diego alves diego alves primo proprietario subito un mi piace ragazzi un mi piace cliccate subito un mi piace su dicevo che volevo trovare dunbia o i barbo ora voglio trovare messi chissà chi mi uscirà ora un cristiano ronaldo voglio trovare a proposito ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di i barbo e dunbia alla roma e ora un mers chissà se vale qualcosa un mers andiamo a vedere niente ancora veramente niente ragazzi però continuiamo e troviamo haward messi pizzarro di nuovo un altro pizzarro ragazzi un altro pizzarro david pizzarro 3 febbraio 2015 un altro un altro if ragazzi il secondo if in questo video e siamo già arrivati a 5 if per questo team of the way 20 chissà si è aumentato il prezzo ragazzi ma non credo era sui 10 mila credo prima o sempre la stiamo ok ragazzi un altro if andiamo avanti cerchiamo qualcun altro su azar portami qualcuno su walker prendiamoci una piccola pausa ragazzi ho sbloccato tre pacchetti due di oro e un argento andiamo subito a vedere cosa contengono velocemente allora qua bella qua proprio niente primo contratto d'argento via allora qua invece se chi troviamo defo via l'ultimo pacchetto gratis oro con alaba in copertina ci da schifezze riprendiamo con i pacchetti veri ragazzi ooooh dubbia 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 fammi vedere subito quanto costa perchè so che oh my days 300 mila 300 mila 300 mila 300 mila oh no dubbia dubbia non ci posso credere sui 250 più oh my days al club ragazzi al club su pazzesco veramente che dubbia valga così tanto ragazzi sicuramente lo andrò a vendere per farci qualche soldo è ancora remy eccolo qua destra al milan saltiamo un altro oh no che è successo che è successo un altro close un altro close ragazzi il Lazialotto massimo rispetto perché è campione del mondo ma è della Lazzie primo proprietario 3 febbraio 2015 ragazzi guardiamo un attimo se è aumentato il suo valore no no non lo so se è aumentato ma chi se ne prega ragazzi un altro if si 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 oh il fecasard Gesù Lich Steiner toltiamo Star Ridge ci dobbiamo lamentare ragazzi così uscirà qualcuno di decente da questi pacchetti veramente totò di Natale si 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 Müller oh Dio mio Müller che valeva all'epoca 10.000 e ora vale 4.000 niente ultimi 10 pacchetti ragazzi poi finiamo il video saltiamo Dennis Matic ho venduto Dumbia ragazzi ecco perché i miei crediti si sono alzati nuovamente e ora Jones Kucca Motigno niente i goini in copertina saltiamo Vertogen ragazzi l'ultimo pacchetto per questo video andiamo a vedere chi troveremo speriamo qualcuno di veramente forte eh si ragazzi Sartacruz Kirtego Osce ci sono gli ultimi due pacchetti gratis che abbiamo riscattato andiamo a vedere che cosa contengono velocemente ragazzi niente il primo mentre il secondo vediamo un po' che cosa contiene il secondo saltiamo Viviano e Ting ma niente di che 3 milioni 506 bene ragazzi questi erano gli ultimi pacchetti per questo video io vi ringrazio vi ricordo di lasciare un mi piace ragazzi di scrivere sotto nella sezione commenti e di iscrivervi al mio canale se ancora non lo siete in questo video abbiamo trovato 3 if diego alves pizarro e close nuovamente poi soprattutto lui ragazzi dumbia nuovo giocatore della s roma ci manca solo il barbo e ancora una volta non siamo riusciti a trovare neymar second if ragazzi forse al prossimo video chissà per ora è tutto ragazzi grazie mille ciao da Genuine a.k.a. Gen40Triver